cari amiche ben trovate questo che vi mostro è l'ultimo scaldacollo che ho lavorato ai ferri da uomo e capita molto spesso che iniziando a lavorare con i ferri circolari un collo praticamente ci ritroviamo con la parte iniziale che è meno elastica della parte superiore quindi ho fatto un po' di ricerche per trovare un metodo di inizio lavoro che rendesse morbido ed elastico la mia parte inferiore del collo ora vi mostro come ho fatto per iniziare questo scaldacollo con un punto elastico iniziamo montando due maglie sul nostro ferro 1 e 2 lasciate sempre una codina poi da da cucire che sia sufficientemente lunga lavoriamo questo inizio maglie con tutte e due i ferri allora due maglie le abbiamo già sul ferro il ferro di destra inseriamo tra una maglia e l'altra lavoriamo come se fosse una maglia al dritto estraiamo allunghiamo un po' la nostra maglia e la mettiamo sul ferro di sinistra riproviamo di nuovo tra una maglia e l'altra che abbiamo sul ferro di sinistra inseriamo il nostro ferro di destra lavoriamo una maglia al dritto facciamo uscire la nostra maglia a sufficienza per poterla mettere sul ferro di sinistra quindi non deve essere tanto tirata anche perché poi faremo fatica ad inserire il nostro ferro di destra estraiamo e passiamolo sul ferro di sinistra inseriamo di nuovo e lo ripassiamo sul ferro di sinistra quindi dovete continuare a lavorare in questo modo fino a quando non avrete il numero di maglie che dovete montare per il vostro lavoro ecco qua avete visto è semplicissimo e vi assicuro che una volta lavorate perché poi ecco le lavorate normalmente io per il mio collo ho fatto punto coste 2 a 2 però se voi lavorate tutto al dritto o tutto al rovescio non cambia nulla e vi ritroverete un inizio lavoro che è elastico e non dà problemi ad esempio per i cappellini oppure per ecco per gli scaldacollo non dà problemi per essere infilato faccio un paio di giri e e e e e e e vedete vedete si allarga e quindi non rimane serrato e stretto ecco questo era un tutorial semplicissimo che ho voluto mostrarvi perché ritengo sia molto utile per poter fare molti dei nostri lavori ai ferri e buon lavoro a tutte voi da Lilla vedete 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 Grazie a tutti